Siamo nella scala fra la neurofisiopetologia e la prevenzione, batterie abbandonate in condizioni fatiscenti e siamo all'ospedale San Donato di Arezzo. Comincia da qui il viaggio della consigliera comunale di Oraghinelli Mary Cornacchini che armata di cellulare e tanta pazienza ha documentato le condizioni di alcune zone del nosocomio aretino. Quando ho sceso le scale mi sono trovata davanti dei pancali con delle batterie che praticamente sono in condizioni fatiscenti, c'è acido che fuoriesce all'esterno, qui sembra ci sia veramente un deposito alla merce di tutti e in un ambiente ospedaliero è veramente una cosa che lascia interdetti. Dalle batterie esauste all'esterno della struttura agli ascensori che non sono sufficientemente grandi per i letti dei pazienti. Mi sono trovata anche in un'altra situazione, a entrare con il lettino della mamma all'interno dell'ascensore, entravo io e il barigliere mi sono dovuta aggrappare al letto e stendere sopra perché non c'è spazio per poter fare entrare il familiare, chi porta la lettiga e il letto stesso. Ho trovato molte scicche di sigarette all'interno dell'ospedale e questo non è una bella cosa perché in questi ambienti non si può assolutamente fumare. Un edificio che ormai lo si nota anche dai pavimenti in alcune zone dimostra tutti i suoi 23 anni di vita. Cestino dei rifiuti messo sopra a una gora del soffitto a mo, diciamolo, al retino di riparazione acqua. Sicuramente quello è per raccogliere l'acqua quando piove e quindi per non fare la pozza in terra. Il corridoio è un famoso corridoio azzurro che porta male attie infettive. Io già quattro anni fa avevo documentato con una visita che avevo fatto che il tratto di corridoio era tutto disconnesso. a tappare questa voragine ci hanno messo solo un tappeto che praticamente se uno può esci in ciampa può cascare il problema è serio. La situazione non è un bel vedere perché è un ambiente dove le persone si recuano non per divertimento ma purtroppo per necessità e quindi ci vorrebbe più attenzione perché di soldi se ne spendono tanti ma non si spendono per quelli che sono veramente le cose più impellenti.